Grazie di essere qui e grazie a Gabriele Lavia che è qui. Penso che Torino sia una città che gli sta particolarmente a cuore. Non so, ce lo faremo raccontare. Noi siamo felici di averlo qui, per me è tornare a teatro da giovane, da non so, lasciamo perdere che cos'è per me, credo sia per tutti noi. Io sono molto felice soprattutto che Gabriele Lavia abbia scritto questo libro, che lui lo abbia scritto. Cercherò di spiegarlo perché. Perché molti oggi potrebbero forse provarsi a fare un libro sul perché i classici, l'hanno fatto in tanti, eccetera. Ma io penso che ci fosse un problema nello scrivere un libro del genere e cioè se uno prende la parte dei classici, se uno li difende o in qualche modo vuole dire che bisogna leggerli, fa la parte inevitabile del reazionario, bacchettone, antico. Allora, è proprio questo rischio che non dovevamo e non potevamo permetterci di correre. E chi meglio di un attore, di un uomo di teatro, di un regista può fare un libro che riguarda i classici, un uomo che ha vissuto a contatto con loro, che ne ha fatto la sua vita, che parla con le loro parole? Io non so immaginare nessuno, se non forse un insegnante anche, nel suo piccolo. Lo dico perché ho fatto questo mestiere. Anche noi viviamo con le parole dei grandi. Però abbiamo un problema che, beh abbiamo molti problemi come insegnanti, comunque ad esempio dobbiamo interrogare, mentre gli attori non interrogano. Però vorrei dire che in fondo il lavoro è molto simile e in questo libro Lavia lo dice molto bene, cioè si tratta pur sempre di passare le parole dei grandi, le parole dei classici, al di là del nostro tempo, nel nostro tempo, di farle, di traghettarle. La parola tradizione è questo, la parola traduzione è questo, la parola trasportare, cioè c'è sempre un portare al di là, trasmettere, mandare al di là, cioè tutte queste parole fanno parte del mondo dei classici. Ma comunque veniamo al libro, il libro è bellissimo perché intanto, se posso dire, non ha uno schema e questo è stupendo. Ma perché l'idea non è mia, l'idea è sua. Io stavo lavorando ed è venuta la nostra cara amica a dirmi devi scrivere questo, ma io non ho tempo. Allora Roberta mi diceva, no devi scrivere questo, devi scrivere questo, devi, devi, ma non ho tempo, ma come, non ti preoccupare, dettalo. Per cui alcune cose sono dettate, altre cose sono scritte, altre le scrivevo in camerino, la cosa che mi piace di più è il pezzo sulle metamorfosi di Kafka, la metamorfosi, scusate, la metamorfosi di Kafka, dove ho un'intuizione che è questa, che Kafka scrive l'Orestea. In questa famiglia degli atridi Orestea si metamorfizza in scarafaggio perché ha la corazza dell'eroe ed è appunto la corazza dell'eroe che gli impedisce di raddrizzarsi. E' qualcosa che non ho mai letto da nessuna parte, ma siccome mi aveva telefonato non puoi non scrivere una cosa su Kafka, hai ragione, e allora va bene, vado in camerino, stavo recitando L'uomo dal fiore in bocca e comincio a scrivere, breve, però breve, e vedo che corrisponde. Sono sicuro che Kafka lo avrebbe amato, queste poche righe, perché sono certo che non so bene per quale ragione, per amore. Sono stato penetrato da Kafka che mi ha fatto capire questa cosa che lui scrive la sua maledetta, dannata Orestea. Ed è credibile, l'ho trovato credibile. E' brevissimo, il pezzo più breve credo delle cose. E' stato faticoso ma neanche tanto perché non avevo tempo, perché stavo recitando, perché quando uno recita è sempre strangolato nel tempo e recitare è faticoso, perché è un gesto fisico e quindi fa fatica. Però ringrazio coloro che mi hanno spinto a farlo, perché tutto sommato è una cosa che alla fine ha avuto un inizio e una fine. E questo poi speriamo che abbia incontrato il favore dei lettori. Ecco, quindi salutiamo Roberta Russo della casa editrice PN. Lei la colpeva. Il merito è lei. No, io devo tutto a lei. Non l'avrei fatto se non c'era Roberta. Sì, ho incontrato la frase, c'è una piccola frase nel libro in cui c'è scritto, ho scritto questo libro in tournée. È in tournée? Sì, in tournée. Va bene. Ma sai, la vita non ce lo siamo detti prima al bar. Ma sì, è una tournée. Non ci siamo detti che siamo in tournée. Siamo in tournée. Siamo in tournée, siamo provvisori. Ecco, il bello di questo libro è che non vuole convincere nessuno. Cioè non è un libro che ci dice che dobbiamo leggere i classici. E questo era un altro pericolo pazzesco da non correre. Però ci dice, almeno, ci dice che cosa sono, che cosa sono stati per lui, perché li ha amati e quali sono. Il libro è diviso in due parti. Nella prima è un, posso dire, forse un discorso con se stesso, sui classici, sul senso del classico. E la seconda parte, invece, è, come dice Lavia, una timida passeggiata attraverso i suoi autori. Quindi troverete Pirandello, Dostoevsky, Chekhov, Strindberg, tutti gli autori che hanno accompagnato la sua vita, in qualche modo. Ecco, adesso starei un attimo nella prima parte, perché va bene, il libro lei non lo voleva scrivere, non ci aveva mai pensato, non aveva tempo, però l'ha scritto. Quando si è trovato di fronte a questo argomento enorme, perché leggere oggi i classici? Che sentimento ha provato? Cioè, smarrimento, certezze, dubbi? No, smarrimento, dico, ma io non sono capace, non sono in grado. Come faccio? Ci vuole un professorone, non un comico per fare queste cose. E poi abbiamo cominciato e a un certo momento era un incubo, era un incubo perché stavo in tournée. E la tournée è un incubo, la tournée non è un giocherello apparentemente, ma prendi il treno e vai da lì, e poi un altro treno e poi arrivi, ti devi sistemare, poi devi andare a teatro, devi vedere come hanno montato la scenografia. Perché io sono anche regista degli spettacoli che metto in scena e quindi non è solo vengo, racito, no. Vengo, devo sistemare tutto quanto. E tutto questo è una fatica veramente grossa da un punto di vista fisico. E quindi per me è stata una fatica, però voglio dire, alla fine se Dio vuole in qualche modo l'abbiamo finito e quando l'abbiamo finito avevo sgravato, come si dice. E questo avevo sgravato, non ho mai provato la sensazione di partorire, però in qualche modo da un punto di vista metafisico è stato un parto, non già della musa, ma insomma di un piccolo parte del mio cervello. Sì, comunque noi, vero, oggi vogliamo sapere. Ma soprattutto, è tutto a memoria, non ho consultato nulla perché stavo in tournée, la tournée si fa con la valigia. La maledizione della tournée per l'attore sono i libri. A me regalano solo libri. Sapete cosa vuol dire quando ti regalano un libro che poi lo devi mettere nella valigia? Che è già piena di libri. Vorrei sparire nel... E no, questo, questo... No, no, no. E questo... No, questo è piccolino. Ma quando ti regalano, per esempio, i cortili dei palazzi di Torino e provincia. Bellissimo, così, grande. Dove lo metto? E nel baule non ci sta più. I libri sono un grande problema perché pesano e io che ho fatto tanti traslochi, sicuramente pure tu, sai che l'ultimo trasloco, fortunatamente, io non ero a Roma. Ha fatto tutto mia moglie e i libri sono ancora messi in maniera, non come dico io, ma non li tocco. Dico, no, resteranno così fino alla mia morte perché basta, i libri sono una maledizione. Non bisogna avere libri. Ho scoperto che se uno dice non comprare, li comprano. Anche non leggere funziona. Non bisogna leggere. Non bisogna leggere. Perché non bisogna leggere? Abbiamo sbagliato il titolo. Non bisogna leggere. Noi vorremmo, credo, sapere che cos'è un classico perché, beh, credo sia la cosa più difficile da definire. Non so se voi avete mai provato, però io ci ho provato più volte e non lo so. Non so perché si chiama anche liceo, diciamo, la scuola che si occupa di più di queste vicende si chiama liceo classico. Non so perché, non lo so. Cioè, non so, uno può capire perché le belle arti, insomma, il bello è un concetto molto complesso, molto difficile da affrontare. E' veramente difficile dire cos'è la bellezza, questa scintillanza che traspare da qualche cosa per cui il bello ti folgora. Il bello classico, perché? Ma noi sappiamo che più o meno i classici sono gli antichi greci, gli antichi romani, poi c'è qualcosa che ha attraversato il tempo e noi sappiamo. Omero è un classico, Dostoevsky è un classico, Chekhov certamente, Molière, Shakespeare, non parliamone. Anche Ben Johnson è un classico, ma già avvertiamo che Ben Johnson ha qualche cosa in sé. E' vero, è un classico perché è antico, ma contiene qualcosa, contiene una rabbia, una rabbia che a volte esce fuori dalle righe scritte. Mentre il classico puro la contiene, Shakespeare lo contiene, Ben Johnson no, arriva alla maledizione, alla bestemmia, alla qualcosa che lo toglie dal classico. Io francamente non saprei dire che cos'è un classico, ma una cosa la so, è una cosa un po' antica, ma sono sicuro che c'è qualcuno che in questo momento sta scrivendo o sta dipingendo o sta componendo qualcosa che varcherà la storia e la attraverserà e farà continuando la storia. Ecco, possiamo dire forse, tu forse lo sai meglio di me, che forse un classico è qualche cosa che attraversa tutta la storia, che la trascende e la continua. Ma la storia dell'uomo, forse questo, in fondo tra l'Ulisse di Joyce e l'Odissea c'è il famoso, in maniera ovvio che c'è, ma c'è una continuità. Ora, lì è evidente, ma in fondo possiamo trovare una continuità tra Shakespeare e Eschilo, Sofocle ed Euripide, che è fin troppo ovvia, in fondo, che cos'è l'Amleto se non l'Orestea. C'era un figlio che si chiamava Oreste Trattino Amleto, che aveva una madre che si chiamava Gertrude Trattino Clitenestra, la quale Clitenestra Gertrude si era sposata con Egisto Trattino Re Claudio, il quale Egisto Trattino Re Claudio aveva ucciso il fratello Agamennone, il re, e poi arriva un Amleto Trattino Reste che deve vendicare perché vede lo spettro del padre Agamennone, vecchio re Amleto, che gli dice devi vendicare la mia morte. E il gabbiano non è la stessa storia. Il gabbiano di Chekhov non è la storia di un ragazzo, un Oreste moderno, che non ha talento, impotente, che però vorrebbe, ma c'ha una madre che li tennestra, che si chiama Arcadina, che ha un Egisto che si chiama Trigorin. Non è la stessa storia. Questa storia che viene traghettata, cioè viene tradizionata, trasferita da un tempo remotissimo. E forse oggi qualcuno, se avesse il talento di riuscire, il talento, l'umiltà, la poesia, di riuscire a scrivere oggi la nuova Orestea, i ragazzi di oggi, il nuovo Oreste, potrebbe accadere qualcuno, ecco Oreste, oggi. Arriva uno che si fa così. E sogna il suo vecchio padre che gli dice, devi compiere questo atto. Lui è un poeta, un artista, un drammaturgo, te potreste scrivere, anzi, perché non scrivi? Ma certo, sì, non mi era mai venuto in mente di riscrivere l'Orestea, in effetti. Ma tutti, l'Orestea è un luogo dello spirito. Noi siamo dentro questo tempo, noi siamo dentro pochissime cose. Siamo nell'Oedipo, capiamo perfettamente che quando, che l'unico modo per vedere è accecarsi. In fondo, nella caverna di Platone, l'ultimo stadio, che cosa ci dice Platone? Che una volta che si è accecato, ha visto l'agatonna, questo signore che è uscito fuori dalla caverna, ritorna giù ed è, non vede più nulla. E ci dice che l'unica saggezza è non vedere. L'unico modo per vedere è non vedere. C'era anche un, chi lo diceva, non mi ricordo, c'era qualcosa. Dice, finché, ah, sì, il metodo zen per tirare con l'arco. Dice anche, ma c'era un occidentale che è andato, voleva imparare a tirare con l'arco. Ma, dice, ma non riesco nemmeno. E gli dice, ma come faccio? Ma perché lei, maestro, fa sempre centro? Perché non guardo. Sì, non puoi fare centro. Maestro, ti devi bendare gli occhi. Ma, maestro, cosa dice? Ma sì, quando sarai diventato arco, freccia e bersaglio, non potrai più sbagliare. Beh, sì, la cecità è un grande tema. Ovviamente Omero era cieco. Per descrivere e raccontare il mondo bisogna essere ciechi. E ti resi anche cieco. Cioè, vedi il futuro se non vedi. Ecco, nel libro c'è un pezzetto molto bello dedicato al suffisso ri. Ci pensavo, mentre Gabriele raccontava, perché abbiamo centrato già un punto dell'essere classici, cioè questo scrivere che è un riscrivere, raccontare che è un riraccontare, da parte nostra un leggere che è un rileggere, ma nel libro c'è un ri molto bello a cui io non avevo pensato, ed è riessere. Cioè, Gabriele dice che leggendo un classico noi siamo portati a riessere ciò che siamo sempre stati. Quindi a ritrovarci e anche a ricordare. Ecco, un'altra cosa a cui non avevo pensato è che il verbo ricordare ha dentro la parola cuore, corcordis. Non ci avevo pensato. Non si pensa mai abbastanza a tutto. Ecco, questo ri. Cioè, forse il classico è qualcosa che ci viene dal tempo. Tu lo dici molto bene all'inizio, no? Ecco, c'è dentro il concetto di tempo in un classico, perché viene dal passato. Può essere più o meno remoto recente, ma c'è dentro il passato. e però ci porta in un mondo che è il futuro. Tu dici una cosa molto bella sul tempo, e cioè che siamo... che il passato ci sta davanti. Il passato è l'anteriore. Noi diciamo, noi sempre, dice, ma noi siamo abituati. Bisogna guardare avanti, guardare al futuro. è un modo di dire di una società appiattita nell'ignoranza, perché il futuro è posteriore. Il passato è anteriore. Anteriore vuol dire davanti, posteriore vuol dire dietro. Il futuro è sempre dietro. Non lo puoi vedere. ti può sorprendere nella misura in cui tu tieni l'occhio fisso sul già stato. La storia è una cosa importante, perché diceva un grande filosofo Martin Heidegger che l'essere è sempre un essere storico e aveva ragione lui. Poverino ha commesso alcuni errori fatali nella sua vita, ma comunque ha ragione, perché io sono il mio anteriore. Io sono figlio di nipote di e di e di e prima ancora quello e il figlio del figlio del figlio lo sapevano molto bene gli antichi che dicevano e Abramo generò e generò e generò la genealogia è l'essere. Ora la nostra genealogia siamo dei giustamente laici ma noi siamo tutto quello che abbiamo saputo fatto nel corso della nostra vita. Certo Dostoevsky ha fatto tanto certo noi abbiamo degli esempi talmente se uno pensa ma come ha fatto Dostoevsky ma come ha fatto che ha scritto in una settimana il giocatore lo ha dettato aveva bisogno di soldi lo ha dettato a una stenografa mentre lo dettava le faceva pure la corte si saranno baciati e anche un po' toccati e l'ha pure sposata e ha scritto il giocatore dico ma come si fa bisogna essere avere una marcia in più ecco per arrivare a simili capacità come fai dice adesso c'è la carina questa si scrive il giocatore sì lo voglio intitolare il giocatore Dostoevsky che fa il provolone ci prova un po' Natalia Petrovna quel giorno e mentre ci prova si inventa il giocatore ma accidenti che forza che meraviglia a me io non sarei capace con Natalia Petrovna non mi riuscirebbe stando sul tempo tu dici che un classico fa epoca e rifletti sulla parola epoca epoche sospensione questo è importantissimo e invece non fa moda il moderno non è il classico il moderno è tutto un libro anche sulle parole molto bello vogliamo parlare di questa sospensione del tempo guarda tu che sei una scrittrice sai perfettamente che il il vero mistero è questa dannata epoche anche quando uno sta in scena recitare è qualche cosa di una tale difficoltà perché perché recitare detto dice io devo fare un personaggio io devo fare un personaggio io soggetto devo fare predicato verbale più o meno un personaggio complemento oggetto ora però succede che questo complemento oggetto in realtà è il soggetto quindi c'è una sovrapposizione tra l'attore e il personaggio come dice eraclito endia feron e autò uno in se stesso portatore del doppio questo uno portatore del doppio però non è che è una cosa tranquilla entra in armi in armonia armonia non vuol dire che stiamo bene insieme siamo tutti felici no arma deriva da armos la contraddizione in realtà armonia si potrebbe tradurre con contrapposizione addirittura l'armonia è un contrasto dice io e mia moglie siamo in un'armonia perfetta vuol dire che c'è lotta perché il do e il mi e il la e il sol do mi sol sono un accordo di do soltanto se il do rimane do il mi rimane rigorosamente mi e il sol rigorosamente sol se per essere gentili il do si avvicina al mi e il sol pure non è più un accordo è un orrore è una cacofonia ora per quello che riguarda l'attore dice ma io sono il personaggio no l'attore deve restare attore e il personaggio deve restare nella distanza dall'attore quello che comunica è questo armos la lotta fra un signore che si chiama attore e un personaggio che non c'è ma che sei tu è una cosa di una tale difficoltà che coinvolge non solo la mente il talento sto parlando di una cosa seria non sto parlando di persone che hanno un talento naturale della comunicazione e fanno delle macchiette più o meno divertenti è un'altra cosa sto parlando di un qualche cosa di molto complesso e questa contraddizione questa contrapposizione è la comunicazione il pubblico non lo sa perché non è il suo mestiere ma quando vede un attore dice ah però in realtà non sta guardando il personaggio sta guardando la la lotta il combattimento la eris tra l'attore e un altro se stesso che si chiama personaggio è questo che comunica non so perché ho fatto questo discorso non lo so neanche io ma non importa era l'epochè ma non importa a me è venuta ecco questa lotta ecco da questa lotta ha una sospensione non che si sospende la lotta dove la lotta è nel suo momento più vistoso e profondo la lotta la lotta la lotta in quel momento potremmo dire che è un momento di epochè quel momento è il momento che comunica maggiormente ora ci sono attori che riescono ad allungare quest'epochè se nel corso di una rappresentazione un attore riesce ad avere due tre momenti di autentica epochè allora abbiamo assistito a un grande spettacolo ma momenti non non è possibile non è possibile è troppo è troppo la sospensione non pace la sospensione dove la lotta è pura dove diventa pura armonia eraclito puro probabilmente c'è anche per il lettore però questa sospensione se quando leggiamo riusciamo ad ottenere questo è possibile anche per chi legge sicuramente per chi scrive tu parli anche di svuotamento di sé per un attore che recita deve svuotarsi come uomo come persona per diventare un altro probabilmente anche il lettore si svuota almeno io ho pensato questo leggendo sì però questo svuotamento dell'attore e probabilmente anche dello scrittore quando scrive questo tu lo sai molto meglio questo svuotamento è il massimo del riempimento cioè nel momento in cui riesco a togliermi tutto io sono il puro essere scrivente o essere recitante è difficile è difficile riuscire a dire cos'è il pieno e cos'è il vuoto sono misteri che ora io facendo l'attore e anche il regista e avendo affrontato questi problemi molto a fondo e non avendo capito nulla soprattutto ho chiaro il problema non ho la soluzione non ce l'ho la soluzione perché la soluzione è un contrasto assoluto è una contrapposizione è una contraddizione come il famoso aneddoto o aneddoto non più che un aneddoto intorno probabilmente al più grande filosofo di tutti i tempi Eraclito da Efeso dove vanno i turisti perché vogliono vedere il sommo Eraclito che pensa e vanno a Efeso e dicono ma dov'è? avete visto Eraclito? siamo venuti per vedere Eraclito che pensa dov'è? ah lì da quella parte lì vanno avete visto Eraclito? ma dov'è? è lì nel forno del pane vanno nel forno del pane e vedono Eraclito che si riscalda il culo perché fa freddo e come abbiamo fatto tutto sto viaggio per vedere il sommo Eraclito una volta Paolo Villaggio mi raccontava che era andato a vedere Yul Brynner vi ricordate quell'attore completamente rasato ma siccome era ambriaco era da un po' di giorni che non era più rasato perfettamente era solo calvo perché avevi i capelli solo qui è stata la grande delusione così questi turisti vedono Eraclito che si riscalda il sedere a un forno di pane Eraclito pare abbia detto entrate entrate anche qui abita il Dio il contrasto assoluto fra il luogo così umile scarno goffo comico e invece la presenza dello sguardo Dio vuol dire sguardo quello che da dentro il veduto mi guarda il Dio della bottiglia mi guarda e fa sì che io possa dire bottiglia il Dio del tavolo mi guarda da quel pezzo di legno vagamente con una forma geometrica e io dico tavolo Dio non è un'entità è una parola greca che vuol dire sguardo quello che da dentro il veduto mi guarda poi è stato mutuato come termine per dire Dio oh Dio noi giudaico cristiani quando diciamo oh Dio alziamo le occhi al cielo ma è una parola greca Dio non c'è e quindi noi sappiamo che a un certo momento i latini il medioevo si è accroccato la grecità per i suoi perché aveva il problema di Dio che gli creava dei problemi e con cui ha dovuto fare i conti ha dovuto mettere a posto tutta una serie di problemi di carattere filosofico io ho capito perché questo libro è scritto così perché è così cioè vi perderete è bellissimo perché il libro di Gabriele è questo non pensiate che non risponda alla domanda cos'è un classico risponde ad ogni pagina ad ogni pagina troverete una definizione ma intanto si è perso e noi ci perdiamo con lui in altro è molto bello questo è molto poco come dire professorale è naufragarlo è dolce in questo mare è naufragarlo però io ho il compito di riportare un po' allora secondo me io mi sono chiesta poi ma come risponde alla domanda cos'è un classico e perché dovremmo leggerli e io mi sono data una risposta secondo me c'è un centro in questo libro ed è un centro anche molto originale che non aveva detto Calvino nel suo saggio sui classici che non ha detto nemmeno Pontigia cioè è una cosa che può sembrare come dire vabbè sì ci avevo pensato anch'io ma non è vero allora secondo me il centro è questo è che tra l'altro tu lo dici più volte nel libro quindi deve essere proprio il punto centrale un classico ci porta a scendere a scendere in noi stessi al centro di noi al mistero di noi esseri umani a trovare se stessi ma tu lo dici meglio la propria sestessità allora vorrei che andassimo molto a fondo di questo perché è proprio questo tu usi la parola discesa discesa e ti riferisci a Platone e a Socrate a quando Platone insomma lo dici tu raccontalo tu è la discesa al Pireo io su questa discesa al Pireo a me sembra che sia quello il centro è vero? sì ci ho beccato sì bene cioè la discesa al Pireo cos'è il Pireo? è il sottosuolo di Dostoevsky è il centro del mondo è l'ombelì è le fleurs du mal di Baudelaire è il male è il punto più basso dell'universo ma è lì che noi dobbiamo andare sono gli ultimi gli ultimi ecco di verga sono i poveri di Gesù Cristo e tutta la stessa precipitare andare giù in mezzo al dolore al dolore che è anche orrore che manda cattivo odore che noi allontaniamo da noi perché è più facile vivere nel profumo nelle comodità e allora non vogliamo eh sì va bene i migranti però dobbiamo ordinarli no non sono più migranti se vengono ordinati sono turisti i turistici vanno bene ma quello che noi abbiamo fatto milioni di anni fa combattendo attraverso quando probabilmente lo spazio fra l'Africa e l'Europa era meno inferiore è questa migranza e andare giù nel Pireo e noi abbiamo una grande possibilità oggi andare giù nel Pireo anche noi perché solo giù nel Pireo sono precipitato giù non dice me ne sono andato a spasso per il Pireo no sono sprofondato giù nel Pireo che grande insegnamento che ci dà Platone e in fondo Eraclito dove stava? Nel forno del pane a pensare era lì che c'era anche qui abita il Dio questi grandi che hanno insegnato per sempre ci hanno insegnato che il punto più alto noi lo incontri ma poi tu sei una poetessa si incontra sempre nel punto più basso Dostoevsky va nel punto più basso quel meraviglioso mi ricordo che lo dico lì che è un punto che è così alto quando Dostoevsky ha sempre questa immagine del Cristo così come posso dire iconoclaste dove c'è quella puttana che viene presa bastonate allegnate in mezzo alla neve gettata nella neve sanguinante che bestemmia e dove come posso dire un carrettiere un cocchiere ubriaco gli dà un pesce in mano e probabilmente gli dice to succhia e lei è così col pesce questa immagine del Cristo femmina col simbolo di Cristo in mano un momento è di una tale potenza di un di una tale forza ma ma quest'uomo che cosa ha scritto cinque volte davanti al pelotone di esecuzione l'hanno portato per fargli uno scherzo non lo so e anzi quindi il dolore è il centro il dolore è il centro il classico è colui che descrive va in mezzo al dolore e quindi ce lo restituisce e d'altra parte la nostra esperienza dei classici fa piaga nel mio cuore la somma del dolore che va spargendo sulla terra l'uomo e poi Ulisse stesso è descritto nei primi versi come l'eroe che ha provato dolore cioè l'esperienza del dolore è per tradizione come dire il massimo che l'uomo può raggiungere nella conoscenza di sé e del mondo infatti in greco si dice algos questo è bellissimo perché algos vuol dire ciò che è più profondo alga è una pianta che significa dolora ecco questo io non l'avevo proprio pensato è bellissimo sì è bellissimo che l'alga venga noi dobbiamo raggiungere la profondità dell'alga poi tu che scrivi cioè hai scelto il mestiere del dolore nel senso profondo nel senso etimologico perché dove vai se non da dentro di te ma il dentro dov'è è sopra è sotto dove sta a volte mi sono chiesto ora mi concentro per un attore ora mi concentro cosa fa vedi gli attori che cominciano che si mettono in qui dico no guarda è tutto diverso non ti devi concentrare per concentrarti sì cosa devo fare maestro chiacchiera con tutti ma chiacchiera chiacchiera poi a un certo momento mettiti qui a un certo momento non devi chiacchierare più devi metterti in quinta in quinta sì in quinta attenzione essere in quinta è il momento più alto del teatro perché qui sei in quinta qui sei in scena il gesto più importante è questo è sempre un'inspirazione l'attore che entra in scena è ispirato si entra in apnea come quando uno prende la penna e fa il primo gesto è in apnea questo gesto è in apnea ancora non stai poi prendi un mezzo respiro che è parli una volta che hai parlato non puoi più tornare indietro ma tutto accade in quel gesto al di qua e oltre nell'oltre se sei un grande attore se sei in una serata particolarmente ispirata se hai la parte se hai la parte ovviamente quel momento è il tuo precipitare il tuo naufragare il tuo perdere l'orientamento quell'orientamento che perde ecco leopardi lo dice così bene nell'infinito per essere per vedere bisogna essere ciechi in fondo una volta sai ero non so se lo scrivo non credo l'ho messo forse questa storia perché è una cosa molto importante sono andato a Recanati sì l'ho scritto eh sì però non me lo ricordo sai ecco questa cosa qui mi ha fatto capire andando a Recanati voi sapete che Recanati la siepe dell'infinito l'hanno tagliata sono andato dal sindaco e ho detto la siepe mi metto lì c'era un ragazzo l'ho messo a un certo momento da qualche parte c'era un ragazzo ah maestro lei è qui sì ma mi dica un po' era un ragazzo che era messo lì per guadagnare qualche lira ai turisti gli raccontava di Giacomo Leopardi Coso il Conte Monaldo queste cose qui ma mi dica un po' la siepe no la siepe non c'è più l'hanno tagliata come sì ma come la siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude eh sì perché escludeva da tanta parte dell'ultimo orizzonte la siepe dell'infinito eh no hanno messo il muretto Mario ama Giorgina perché poi siamo sempre nel Pireo no alla fine finiamo dico sì ma come si fa io giuro domani vado dal sindaco glielo dico che deve ripiantare la siepe ah bene no è rimasto un pezzetto dove qui cioè qui c'era l'infinito che però era finito c'erano i monti azzurri la piazza la cosa Re Canati e i monti azzurri in fondo qui qualcuno sarà stato diciamo il colle dell'infinito è largo credo quattro volte questa stanza non di più anche tre poco poco e siccome il conte Monaldo l'aveva data a questa colle e il palazzottino che c'era dietro probabilmente perché glielo tenessero bene per risparmiare un po' a un convento di monache le monache volevano fare un muro perché erano monache di clausura invece dice no allora cosa facciamo cosa non facciamo una siepe una siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guarda esclude ah bene una siepe sì va bene dice nessuno però può stare tranne il conte Giacomo lui sì ma a una certora sola poteva passeggiare nel colle dell'infinito qui era rimasta questo pezzetto di siepe così altissima almeno sei metri accidenti era così alta e beh sì perché in fondo erano monache di clausura ah però una siepe alta sei metri è come un muro fitta 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 allora con questo ragazzo dice ma dove si sarà seduto il conte Giacomo e io penso dentro di me e sono sicuro di non sbagliare che se la siepe era qui lui si sedeva così attaccato alla siepe perché era troppo spiritoso era troppo grande per non fare qualcosa che fosse una contraddizione con la logica dico vieni qua sediamoci qua e immaginiamo la siepe davanti adesso ridiciamo l'infinito sempre caro mi fu quest'ermo colle era un eremo di monache e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude io non vedo quello che c'è dietro da tanta parte dell'ultimo orizzonte cioè i monti azzurri non vedo più nulla ma proprio perché non vedo ma sedendo e mirando non e vedendo mirando cioè ricevendo lo sguardo di qualcosa di immaginario e mirando io nel pensiero mi fingo io nel pensiero da solo mi fingere metto in opera qualche cosa tale di costruito dal mio pensiero dove il cor non si esse privativo paura non si spaura perde tutte le paure e mi sovvien l'eterno mi sopravviene da dietro l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e la presente è viva perché adesso ho fatto un salto perché non vi voglio tediare con tutta la a un certo momento dice a un certo momento c'è un soffio di vento il cor non si spaura perde tutte le paure e il cuore a un certo momento c'è un soffio di vento che fa un piccolo rumore e sono due foglioline che danno il suono dell'età presente che noi crediamo ma che invece il rumore dell'età presente al massimo dice ha perso Renzi che ce frega ha vinto la Meloni i Cinque Stelle c'è Robetta sono due foglioline che fanno fritt e come il vento odo stormir fra queste piante io quell'infinito silenzio a questa voce a queste voce dell'oggi lo comparando e dal silenzio a questo l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva è il suono di lei il suono della nostra epoca cioè due foglioline che fanno fritt così fra queste immensità che lui prima aveva scritto infinità poi gli sembrava troppo come dire didascalico l'infinito infinità la fa più semplice fra questa immensità s'annega il pensier mio e naufragar vado dal sindaco vado dal sindaco e busso e busso maestro ho visto lo spettacolo ieri non mi ricordo che spettacolo fosse arrecanati senta signor sindaco io vedo che voi la cosa incredibile è che se andate arrecanati sulla torre c'è un uccellino che secondo me l'hanno fatto di legno perché sempre caro mi fu questo no quando dice ding sulla vetta della torre antica passero solitario alla campagna cantando vai tutte le volte che sono andato arrecanati sulla torre c'è un passero e io ho detto secondo me non è possibile sempre lì sempre fermo secondo me l'hanno fatto di legno di ferro signor sindaco vuole passare alla storia ma mi dica no mi dica se vuole passare alla storia guardi butti quel muretto e rimetta la siepe di Giacome Lopardi lei è sempre un battacchione io lo dicevo seriamente perché è l'unica cosa seria da fare credo che mi abbia preso per pazzo non mi hanno chiamato più però onestamente io l'ho detto in tutti i modi fate una petizione perché si rimetta la siepe dell'infinito la siepe dell'infinito sono andato in America a fare un'opera lirica e a San Francisco a un certo punto mi invitano e c'erano così una sala più o meno così a un certo punto non so come non so perché non c'erano italiani tranne me il direttore d'orchestra che era Nicola Luisotti e basta e a un certo punto mi metto a dire così l'infinito volete sapere una cosa l'hanno recitato tutti con me in italiano oh e mi sono commosso ma come voi siete americani sapete l'infinito beh non tutti gli americani sanno l'infinito noi siamo venuti qua sentite cosa mi hanno detto dice un signore poi mi ha detto dice mio figlio mi ha detto andiamo papà perché stasera ci sono gli italiani e quando ci sono gli italiani c'è sempre qualcosa di speciale accidenti che considerazione e che responsabilità anche no e insomma basta ho parlato troppo ci prendiamo ancora cinque minuti adesso però voglio fare io a lei una domanda sentiamo quando ti siedi al tavolino ti siedi perché hai un'idea oppure l'idea ti viene appena apri la penna non so se tu scrivi a mano col computer come sei abituata cosa ti succede? eh sì è una bella domanda questa non ho mai un'idea e il bello di scrivere è proprio questo che tu pensi scrivendo e improvvisamente ti viene un'idea che non sapevi di avere è come se qualcuno te la mandasse guarda mi è appena capitato perché ho finito un libro che non so da dove diavolo mi sia venuto non era una storia che avevo che avevo non pensavo di averla e invece forse qualcuno me l'ha mandata non lo so ma non vorrei essere troppo mistica però è proprio vero secondo me nell'atto di prendere una penna in mano mi hai detto prima che tu scrivi a mano e vorrei dirlo a tutti perché è qualcosa di spettacolare oggi che qualcuno scriva ancora a mano oggi che non insegniamo più ai bambini a scrivere a mano lo insegneremo sempre meno ecco la scrittura a mano che ha una sua lentezza secondo me è il tempo giusto perché è lo stesso tempo del pensiero quindi tu apri la penna possibilmente una stilo e nel momento in cui scrivi pensi e la storia si forma in qualche modo poi c'è sempre ovviamente un tempo in cui rileggi e quello è il tempo della ragione però il primo tempo non è tuo ti viene da fuori non so però è bello il tempo della ragione perché uno poi quando si scrive magari cambia tutto ma non è un tutto magari tutte le parole ma tutte le parole non sono il tutto comunque vorrei parlare ancora di una cosa bellissima di questo libro c'è un capitolo che mi è piaciuto in modo particolare si intitola l'essenza di un classico è a pagina 69 quando comprerete il libro andatevelo a leggere perché riguarda vabbè riguarda Strindberg anche ma non non è solo questo riguarda la solitudine io vorrei chiudere col concetto di solitudine e farne una specie di elogio perché oggi noi non amiamo la solitudine ma c'è una solitudine buona una solitudine positiva che probabilmente ci è necessaria per leggere per scrivere per recitare anzi per leggere un classico il classico i classici sono pieni di solitudine possiamo dire questo e tu citi una poesia della Dickinson io la leggo in traduzione c'è una solitudine dello spazio una solitudine del mare una solitudine della morte ma queste sono compagnia di fronte a quel luogo più profondo quell'intimità polare è stupendo intimità polare di un'anima sola con se stessa finita infinità ecco Gabriele Lavia ci dice che leggere un classico è l'anima che è sola con se stessa noi leggendo un classico mettiamo la nostra anima lì da sola davanti a se stessa come davanti alla pagina bianca c'è un elogio della pagina bianca che io personalmente faccio da anni perché tu non sai che a scuola hanno abolito il tema e c'è tutta una serie di vabbè lasciamo perdere non parliamo di scuola ma la pagina bianca se permetti io mi alleo a questo elogio della pagina bianca il bianco è tutto perché è il vuoto da riempire è la sfida è la solitudine dell'anima di fronte a se stessa ed è quello che è la finita infinità esatto è la poesia della mia vita quella è una traduzione maldestra che ho fatto io è bellissima perché tu non puoi sapere come hanno tradotto questa poesia l'hanno martoriata in tutti i modi ma è ma questo capitolo poi finisco però è un capitolo spettacolare perché finisce col fatto che lo leggo che è meglio è difficile stare al mondo ed è per questo che sono indispensabili i maestri altra parola i maestri abbiamo bisogno di maestri e sapete chi sono i maestri per Gabriele? la libreria i libri sentite qua i classici sono maestri e sono maestri rivoluzionari perché ci pongono costantemente in rivolta la deriva culturale è dovuta proprio alla mancanza di maestri e sono convinto che noi oggi possiamo trovarli in un solo posto al mondo questi maestri la libreria non esiste un altro luogo i maestri si trovano solo ed esclusivamente nella lettura solitaria nella lettura solitaria ti avrei abbracciato perché la lettura è un fatto di solitudine scusate se ci metto un po' di enfasi ma siccome stiamo andando da tutta un'altra parte e stiamo facendo una scuola che si fonda sul lavoro di gruppo io quando leggo questo mi metterei a piangere perché è questo che dobbiamo insegnare ancora e sempre a stare da soli su un libro poi lavoreremo anche in gruppo ma sì faremo amicizia faremo merenda insieme non c'è problema ma un pochino di solitudine finisco non mi sento di dare nessun altro consiglio la lettura solitaria è l'unico modo in cui un'anima può pensare e stare in compagnia di se stessa io ti saluto così e ti ringrazio e lascio a loro le domande o qualsiasi cosa ma lei letta così bene no beh a voi lo lascio a voi la ringrazio così devo citarmi mi dà fastidio ma se ho scritto due libri in maniera molto originale non so se è perfetto ma insomma due libri su leopardi no è proprio sull'infinito ho dato delle direi delle interpretazioni diverse almeno quattro versioni dell'infinito e delle altre uno dei miei libri si chiama Spirito Arcano no e l'ultimo volum l'ultimo capitolo ha a che fare con un confronto tra Leopardi e San Giovanni della Croce Juan de la Cruz e si tratta dello stesso argomento no di una pagina famosa va bene questo lo dico poi una parola che era valeva la pena di usarla e cioè kenosis che vuol dire abbassamento questa idea dell'abbassamento c'è anche in montale questa idea no quindi è fondamentale no e poi l'ultima cosa il classico c'è un rapporto tra classicismo e neoclassicismo tra classico e neoclassico no e soprattutto secondo me l'opera più bella del novecento è un autore no che è un tedesco ovviamente che vuol dire proprio una forma praticamente la morte di Virgilio non so se conosci la morte di Virgilio della della cosa come si chiama della beh insomma una casa editrice famosissima no la morte di Virgilio un capolavoro no dove Virgilio va prima naturalmente va a Roma la cosa da Mantua Mantua Megenuit poi è andato fino in in diciamo così in Grecia e poi è finito a Brindisi ed è Brindisi il capolavoro più bello dell'umanità secondo nel novecento a livello europeo è proprio questo solo questo voglio dire che è questo qui va a avere la morte di Virgilio di Virgilio